Ciao a tutti popolo di Avriai, un salutone dal Green, primo video per me qui sul tubo di Avriai con me tratteremo FIFA e soprattutto Ultimate Team, visto che questo è il mio primo video qui visto che siamo in clima mondiale ragazzi, per strada, sembra che parliamo tutti brasiliano allora andiamo a parlare di Ultimate Team World Cup farò un breve riepilogo per chi è stato in ibernazione gli ultimi giorni e poi invece cercherò di darvi le mie motivazioni per cui secondo me vale la pena di giocare questa modalità qua allora piccolo recap abbiamo detto per chi è stato in Siberia l'ultima settimana è un aggiornamento gratuito per FIFA 14, quindi non c'entra nulla con il gioco dei mondiali per questo è sia All Gen che Next Gen, ve lo scaricate, ci giocate accedendo dal menu di FIFA 14 avete lo starter pack con la vostra squadra iniziale, avete a disposizione una rosa soltanto un pallone che è a Barzucca e uno stadio che è il Maracanà modalità di gioco, non c'è stagioni, non c'è possibilità di sfidare gli amici c'è questo torneo, si può giocarlo online o offline quindi gironi più eliminazione diretta ovviamente avete a disposizione soltanto i giocatori che prenderanno parte ai mondiali giù in Brasile quest'anno per cui avete giocatori che in Ultimate Team non ci sono tipo un certo emeniche e anche gli overall per alcuni giocatori sono stati aumentati ed altri sono stati anche abbassati questa in sintesi è la struttura di questo Ultimate Team World Cup quali sono allora i motivi per cui secondo me vale la pena di giocarci beh intanto diciamo che è un qualcosa di nuovo, è un Ultimate Team in salsa mondiale che comunque è diverso, qualcosa di fresco diciamo in questa bella calda estate e è una modalità divertente e carina secondo me da provare andiamo sul sodo però allora ragazzi intanto i pacchetti che voi potete acquistare vi danno in omaggio sono pacchetti solo da 5k vi danno in omaggio un pacchetto oro per Ultimate Team i giocatori non sono scambiabili questo per me non è una cosa tanto cattiva nel senso ovviamente non c'è l'asta per cui non potete andare a spendere i vostri crediti per comprarvi il bomber, guero eccetera eccetera però d'altronde anche i vostri avversari non hanno questa possibilità per cui giocare partite qui vi mette contro bene o male squadre quasi sempre abbordabili nel 90% dei casi trovate delle squadre abbordabilissime per cui diciamo che è quasi più facile vincere le partite su Future Cup poi ogni partita che voi giocate non necessariamente che vincete vi dà un pacchettino con un giocatore dei mondiali questo ovviamente per darvi la possibilità di rimpinguare la vostra rosa con velocità se vincete anche la finale avete 3 pacchetti ma soprattutto avete 30k per cui 30k ogni 7-8 partite dipende da come vanno i gironi diciamo che non è malissimo no signori i men of the match che usciranno su ultimate team qui sul mondiale avranno l'upgrade diretto se voi ce li avete in rosa quindi anche qui è un altro motivo inoltre parlando di ultimate team perché le cose sono comunque correlate c'è stato un market crash incredibile per cui se voi giocate questa modalità qua siete bravetti avete anche un po' di fortuna vi vincete 10 tornei sono 300k che vi portate a casa ragazzi 300k su ultimate team con il market crash vi fate anche una bella rosa come dicevo prima poi arriviamo alla fine è abbastanza facile nel senso tantissimi quasi tutti adesso ovviamente provano questa modalità qua questo caso significa che nonostante ormai sia uscita da una settimana bene o male vi trovate contro delle squadre che hanno una bassa intesa che non hanno campioni quindi sono molto abbordabili quindi se voi siete già di giocatori discreti per voi è diciamo poco difficile arrivare in finale e vincere il torneo un piccolo appunto sull'intesa ragazzi delle squadre poi chiudiamo i giocatori non sono divisi in base al campionato ma in base alla confederazione quindi potete farvi le squadre con gli europei con gli africani con i sudamericani qualche bella ibrida quindi tanta tanta roba questi secondo me sono i motivi per cui vale la pena di in questo periodo qua buttarsi proprio 3-4 settimane full immersion in ultimate team work up la modalità comunque è divertente è un qualcosa di diverso vale la pena ragazzi ovviamente ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi qui sul tubo di every eye e come sempre io vi lascio col mio saluto che chi mi conosce già lo sa stay barba, stay qualità ciao belli